E' un'idea di un'idea di un'idea di un'idea. Dai, i rapitori. Questa è materia per professionisti. Non devi aiutarmi. Salve, signoroni. Stanotte io le sconsiglio di dormire sola. Gradisce un autografico. Mi perdoni, signore, ma lei è veramente Sherlock Holmes. E' arrivato il momento che la gente sappia la verità. Era un attore. Era anche, per mia somma sfortuna, giocatore. E' una questioncella di un debito di gioco. Ah, donnaiolo. Se l'ho fatta bellezza. E' un bel acoglia. Guardi, ha colpito ancora. Quella danno non mi è mai piaciuta. E sei un idiota! Ma perché? Ma il diavolo! Ma il diavolo! Ma no! Ma sono... Lei non ha nessun rispetto per la privacy della gente! Che sta tramando? Stavi dicendo scusa? Ma! 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 Grazie a tutti.